Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato da Bollati Boringhieri dal titolo Modernità di Dante, di Giacomo Marramau, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite perché ci parli di questo interessante libro e della modernità di Dante, quindi come mia abitudine io lascio subito la parola all'autore, prego. Tanto grazie di questo invito, è importante per me farlo in un ambito in cui al centro sono gli studi medievali, infatti devo però spiegare il senso provocatorio del titolo Modernità di Dante, è una denominazione che c'è stata anche in passato e io lo dico subito nella prefazione al libro, 1993 Claude Lefort ha scritto la prefazione all'edizione francese della monarchia di Dante con il titolo Modernità di Dante e poi recentemente, molto più recentemente c'è stato un convegno a Madrid e Barcellona dal titolo La Modernità di Dante e quindi io ho ripreso questo titolo ma dando a questo titolo una caratterizzazione molto diversa sia da quella che Lefort, un compianto amico peraltro, aveva dato alla sua lunga introduzione all'edizione francese della monarchia sia in parte al convegno, agli atti del convegno di Madrid e Barcellona. Intanto per una ragione, quando parlo di Modernità di Dante non intendo la Modernità di Dante come una frattura o rottura totale con il periodo medievale in cui Dante vive e opera e anzi intendevo una mia critica abbastanza radicale di una versione dello storicismo per la quale vi è una successione di epoche con delle cesure, non è vero? Io cito qui una bellissima frase di Borges in cui Borges dice ma il Medioevo, stiamo attenti, il Medioevo è stata un'epoca straordinaria e quindi che consente a Dante soprattutto nella Commedia, soprattutto nella Commedia, ma anche come dirò nella Monarchia che io uso come sottotesto rispetto alla Commedia, anche nella Monarchia, consente a Dante una valorizzazione in senso ampio delle cose straordinarie che la cultura medievale aveva dato. Qui leggo questa frase di Borges che è molto bella, molto importante, dal saggio La Divina Commedia nei nove saggi danteschi. Come è noto Dante era così sobrio da intitolare soltanto Commedia questa sua grande opera divina e un'aggiunta di Boccaccio al quale dobbiamo tantissimo per la conoscenza successiva di Dante ma questa parte di questo pezzo di Borges è straordinario, l'idea di un testo suscettibile di molteplici letture ecco questa è già la novità che Dante introduce, la polimorfia. Dante è polimorfo, come lo chiama Borges è un straordinario Aleph. La Commedia è uno straordinario Aleph. Ed è proprio di quel Medioevo tanto calunniato e complesso che ci ha dato l'architettura gotica, le saghe irlandesi, la filosofia scolastica nella quale si discute tutto, di quel Medioevo che ci ha dato soprattutto la Commedia che continuiamo a leggere e che continuiamo a sorprenderci, che durerà oltre la nostra vita, ben oltre le nostre veglie e sarà resa più ricca da ogni generazione di lettori. Quindi mi fermo perché poi la frase che cito nel libro va avanti e dice cose anche molto importanti ma è un fatto... quindi io parlo del Dante che ha tinto polimorficamente il meglio della grande cultura medievale della cultura filosofica e come della cultura letteraria e via dicendo e giunge grazie a questo a una novità straordinaria a dire che vi sono per l'umanità due modi di raggiungere l'obiettivo della piena realizzazione di sé in quanto umani non una sola via c'è la via naturalmente della beatificazione e quindi anche del paradiso ma vedremo poi che sono due i paradisi Dante per quello ha avuto dei problemi molto seri in questa affermazione ma per altro verso all'interno del discorso che fa Dante occorre mettere al centro un aspetto che per lui è determinante che vi è da una parte la felicità dice e dall'altra parte c'è la beatitudine quindi i critici a partire dal teologo Domenicano Vernani che gli ha procurato poi la condanna del libro La monarchia che non dimentichiamo è stato inserito nell'indice dei libri proibiti e c'è rimasto cari amici che mi ascoltate amanti del medioevo c'è rimasto fino al 1881 vent'anni dopo l'unità d'Italia Dante è stato una figura intellettuale molto come dire molto criticata se volete anche oggetto di una emarginazione molto forte vi dico anche un'altra cosa che è molto importante una cosa che si sa ma è bene ripeterla che a un certo punto Ugo Foscolo tira fuori quella bellissima idea di fare una versione illustrata della commedia del 1843 io ho l'edizione a casa del 1842 comunque la data 1842 e badate bene lui non può pubblicarla stamparla in Italia la deve stampare a Londra e il prefatore il prefatore era un prefatore importante Giuseppe Mazzini il quale però non si firma col suo nome e cognome ma si firma con una denominazione neutra un italiano il che sta a significare quanto era problematico Dante quanto era considerato e qui vengo un po' alla mia tesi provocatoria eretico Dante c'è un elemento di feconda eresia nella fede nella intensissima fede che Dante aveva ma che voleva declinare in maniera diversa e qui è la tesi fondamentale del libro non sono due beatitudini come dicevano i teologi che lo hanno accusato come il Domenicano Vernani eccetera ma c'è una differenza tra la felicità e la beatitudine l'umana civilitas cioè la civiltà del genere umano e si può realizzare la propria felicità dice Dante senza alcun bisogno delle virtute ologali grazie al rimando alla filosofia all'etica degli antichi ogni tanto mi viene da piangere come questo straordinario uomo ha potuto elaborare con energia con grande energia e coraggio questa idea e qui c'è un aspetto importante della commedia paradiso terrestre e il paradiso celeste nel paradiso terrestre c'è la possibilità che l'umanità realizzi il proprio obiettivo in quanto in quanto moltitudine delle singolarità irriducibili dice Dante delle singolarità irriducibili di cui è composto il genere umano singolarità irriducibili e qui naturalmente il riferimento è averroè il riferimento è molto e quello gli viene gli viene implicato ma lo sapeva padre Vernani che Aristotele nell'epoca di Dante non poteva transitare se non attraverso Ibn Rushd attraverso averroè averroè è stato l'unico tramite e qui ancora una volta Dante Dante si rivela uno che ha attinto tutte le cose più importanti dal medioevo cioè ha attinto attinto la l'idea l'idea della che veniva dalla grande cultura islamica dalla grande cultura islamica e dal che veniva poi soprattutto anche dalla dalla grande dalla grande cultura arabo araba islamica questa è fondamentale e là c'è una bellissima frase di Gianfranco Contini che è stato uno dei miei maestri all'università di Firenze una frase stupenda in cui dice Dante non è un sopravvissuto ma uno che è arrivato prima di noi uno che è arrivato prima di noi è molto bella questa cosa perché mi rimanda a quello che io dico nella nella prefazione al libro e cioè rimanda a questa intanto alla bellissima analisi che fa Cursius Ernst Robert Cursius che dice in letteratura europea e medioevo latino il famoso testo del 1948 che occorre occorre non non pensare alle diverse epoche come delle totalità chiuse tra loro ma come come dei momenti che hanno dei transiti hanno anche dei transiti l'una con l'altra e quindi qui viene fuori viene fuori Dante viene fuori Dante che in qualche modo attinge grazie alle traduzioni latine dei testi arabi ed ebraici fatti dalla scuola dei traduttori di Toledo e attinge tutto quanto era venuto fuori dalla Cordova spagnola di Averroè e di Maimonide o dalla Mursia di Ibn Arabi grande uno dei grandi pensatori islamici arabi che abbiamo avuto quindi abbiamo qui un Dante che attinge da questo e che come una grande studiosa che non c'è più Maria Corti aveva dimostrato aveva sicuramente letto il liber scale Mahometti il libro della scala di Mahometto aveva letto quello e quindi è tant'è vero che molti episodi della commedia sono spiegabili attraverso la incidenza che ha avuto su Dante la lettura dei testi dei testi anche arabi dei testi arabi e qui andiamo un altro punto perché è un punto a mio avviso anche molto importante i due paradisi e quindi chi è il custode del purgatorio e qui andiamo alla 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 geografia un po' geografia in qualche modo legale della della commedia quando Dante Dante per conto della della sapienza divina giuri che manda lui giuri che manda e quindi il custode del purgatorio è una è una delle personalità più straordinarie del mondo antico catone uticense ma badate bene questa strana geometria della legge è una geometria che non è una geometria da come dire da da codificazione codificazione punitiva soltanto punitiva è una geografia normativa che si avvale della idea di quella che i filosofi americani il mio compianto amico Robert Nozick che insegnava Harvard è morto è morto prematuramente chiamava ci sono due monti c'è la vita c'è la vita c'è la vita come dire giudicata e la vita compresa nella commedia di Dante ci sono entrambe le dimensioni c'è la vita giudicata ma c'è la vita compresa è per quello che lui si permette di porre a custode del purgatorio catone uticense un pagano che doveva andare nel limbo anche senza aver fatto un pagano iper peccatore perché suicida suicida e lo mette custode nel purgatorio e abbiamo dei soggetti di hubris di tracotanza come Ulisse che sono in qualche modo venerati da Dante messi sul piedistallo ammirati da Dante ci sono dei peccatori dei peccatori come Paola e Francesca che vengono anche compianti da Dante uno dei due episodi dei soli due episodi della commedia in cui Dante sviene collassa e caddi come corpo morto cade perché tanto emozionato dalla passione dei due e da quello che hanno dovuto subire poi ancora altra cosa importantissima che gli ha procurato probabilmente i guai dai maggiori guai a Dante Sigeli di Brabante grande pensatore fiammingo criticato durissimamente da Tommaso d'Aquino da San Tommaso che viene messo nel cielo del sole come beato con Tommaso con Tommaso che ne fa l'elogio ne fa l'elogio e questa e queste sono anche un'altra è perché questo straordinario teologo seguace di Averroè seguace di Averroè che cosa aveva fatto aveva aveva con estrema straordinario acume diviso la dimensione filosofica del problema come Dante poi fa nella monarchia no? e per quello che dico che la monarchia va usata come sottotesto della commedia la monarchia e quindi Dante usa la figura di Sigeri di Brabante per parlare di se stesso come me Sigeri che poi è stato ucciso da un suo assistente ad Orvieto che era un centro papale un centro pontificio e sicuramente per mandato direttamente del papa fu ucciso da un segretario da uno che gli faceva da segretario e Dante dice questo è un uomo che ha avuto grande coraggio grande intelligenza che ha sofferto molto e nella geografia normativa della commedia diventa addirittura beato molto straordinario è un scenario straordinario ultimo punto per non annoiare chi mi ascolta e annoiare anche me stesso eccetera in passato io ho fatto anni fa a Ravenna una conferenza sulla teologia politica di Dante io faccio un po' di palinodia su questo perché nel libro dico che non esiste una teologia politica di Dante ma un'etica politica di Dante sicuramente ma non una teologia politica vi è una teologia della storia legata scusate all'idea di plenitudo temporum cioè di pienezza dei tempi e badate bene la 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 spiegazione che Dante dà è una spiegazione una spiegazione straordinaria e dice non dobbiamo cercare qui sono in dissenso con molti critici letterari di Dante anche storici in Dante in Dante non c'è l'idea dell'escaton nel senso che l'escaton c'è ma non è davanti a noi alle nostre spalle cosa vuol dire questo nel libro l'escaton è già venuto questo mi ricorda un passaggio molto suggestivo di Heidegger un autore che non mi mai convinto fino in fondo però sicuramente di grande intensità teoretica concettuale categoriale eccetera quando dice il terribile è già accaduto e Dante dice l'immenso è già accaduto come il padre Dio padre ha voluto che il figlio nascesse nel punto cruciale dell'universalità umana che è l'impero l'impero del del grande Augusto e nascesse dunque come civis romanus come cittadino romano e qui c'è la famosa il famoso verso del ricordo a memoria perché avevo cominciato a leggere la commedia grazie all'edizione che mia madre mi aveva fornito già all'elementare già alla fine dell'elementare poi ho proseguito nelle medie durante il liceo quando avevo una memoria molto più solida di quella che ho adesso ero in grado di ricordare più della metà dei canti della commedia a memoria alcuni alcuni li ricordo ancora e li amo come dire recitarli recitarli davanti e mi pare nel il passo trentaduesimo del purgatorio e quando Beatrice dice a Dante e Sara Imeko sansa fine cive di quella Roma onde Cristo è romano è bellissima questa stupenda Dio padre ha voluto che il figlio nascesse come cittadino romano e all'interno nella sfera nella sfera della del del saggio Augusto e questo è la sua guida Virgilio gli indica questa cosa e è proprio quando quando nasce e quando nasce Gesù Cristo nasce nasce all'interno in un contesto che il contesto dell'universalità dell'impero romano e questo e questo ha un significato per lui profondo perché lì abbiamo la plenitudo temporum plenitudo l'escaton e alle nostre spalle non è non dobbiamo fare altro non dobbiamo fare altro che realizzare il destino dell'umanità nella duplice forma della felicità terrena della felicità terrena e della beatitudine celeste ancora ultima cosa e rapporto tra c'è una parte che è dedicata al rapporto tra Dante e Guido Cavalcanti il primo amico il primo amico non in senso cronologico ma il primo amico in senso della priorità della priorità del legame la priorità del legame è l'amico più importante dal quale Dante intendiamoci Dante apprende la filosofia da Cavalcanti apprende a verroè da Cavalcanti quella lettura quella interpretazione di Aristotele l'apprende da Cavalcanti ma si divaricano non come pensava lo scrivo Bruno Nardi un autore che ho amato da ragazzo amo tuttora intendiamoci uno dei grandi interpreti in chiave filosofica di Dante che abbiamo avuto in Italia eccetera ma diceva Bruno Nardi una cosa che a me piaceva da ragazzo a liceo ma che trovo sbagliata nel senso che Dante Platonico e Cavalcanti era in quanta verruista Aristote non è vero nulla non mi dispiace per il grandissimo Bruno Nardi entrambi sono sulla scia di Aristotele per il medium di Ibrust di Averroè con una differenza fondamentale che è legata alla relazione che c'è tra l'amore e la possibile beatitudine dove Dante riteneva che l'amore come lui dice attraverso Beatrice no è una è la maniera è la maniera per per salire sempre più su nell'ordine delle virtù e dunque avvicinarsi al divino e alla beatitudine come accade con Beatrice nel rapporto per per Guido no e Guido quell'accidente come dice in un testo che che io continuo a leggere con un'emozione terribile Donna me prega è uno dei testi più straordinari della letteratura mondiale e poi Guido Guido viene da Dante quando aveva potere Dante fa una cosa terribile e lo sa di avere mandato in esilio in Garfagnana Guido dove Guido poi si prende la malaria in Garfagnana e muore due giorni prima 48 ore prima che morisse amici gli dicono guarda Dante che Guido è in punto di morte lo fa ritornare a Firenze dopo due giorni Guido muore perché per Guido l'amore non è un medium di salvezza quell'accidente che è chiamato amore sembra una 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 poesia donna me prega una poesia ermetica del novecento e non dimentichiamo che senza Guido Dante non ci sarebbe senza Guido ultima cosa perché poi chiudo e chiudo perché Dante e Machiavelli che è l'ultima parte del libro dedicata a Dante e Machiavelli c'è una grande diversità naturalmente anche una notevole un notevole intreccio tra i due e soltanto che la politica in Machiavelli è legata strettamente ai ai concetti ai concetti di contingenza e all'idea di congiuntura Machiavelli è il primo teorico della congiuntura questo in questo senso va oltre Dante in maniera anche più provocatoria di Dante se vogliamo è il primo teorico della congiuntura anticipa l'economia politica la scienza vera scienza nuova della modernità ma questo è nell'ultima parte quindi mi taccio sono rimasto affascinato non dico altro anzi ordino a tutti di andare a comprare questo libro e di leggerlo perché davvero merita che lo leggano e quindi io come mia abitudine ricordo il titolo che è modernità di Dante appena pubblicato da Bollati Boringhieri costa solo 10 euro quindi vale veramente la pena in tutti i sensi scritto da Giacomo Marramao che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio davvero tanto sono io a ringraziare voi io a ringraziare molto voi e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove oltre a questa potete trovare tutte le nostre videopresentazioni realizzate finora grazie ancora a tutti e alla prossima vedermi a faccia io mai non cuero e mi spiego che il no fa mestiero grazie a tutti